Oggi dove si va di bello? San Remy in Val d'Aosta. Andiamo a provare un mezzo molto particolare. Vai! Come si chiama questo mezzo? X? X, Y, Z. Yamaha 1000 di filtrata? X, Z. Mitle aspirato col sequenziale. Cavalli 125 per ora. Sì, è vero. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.